...e utilizzare le corna per una buona causa, così come lo usate per il corna che uso nella cintura dove intercambio le varanze. Allora sto tagliando il re e sto arrivando a forse a compimento di questo grande reboot di come facciamo a concludere l'album, una povertina questo, quello e quell'altro, e io ci avrei la soluzione, metto a disposizione questa cosa, ovviamente con il copywriting il quadro, perché poi lo dovete valutare, vedere eccetera, il quadro che rappresenta uno zatterone in uno zatterone, al centro di un lago, capito, c'è spondato dalla notte, degli accantamenti fede rossa intorno, con dei pochi da campo, con dei totem, tende, e al centro, questo è un bel bel zatterone di legno, dove si produce un gruppo, un gruppo, realmente country music proprio, dove c'è il banjo amico, c'è il violino, c'è l'armonica, c'è l'altro gruppo, c'è la chitarra, c'è il l'area di questo zatterone, e in questa scia, diciamo come una specie di cosa, ci sono dei fantasmi, capito, che danzano, sulle note di questo gruppo che suona, con le cuffie, quindi insomma c'è anche un po' di modernità, ma sono fantasmi di pelle rossa, ma sono fantasmi di pelle rossa? Ti vota sì, io voto senza vederlo, io voglio solo vederlo senza vederlo, John Godden sì, Beckman sì, tutti sì comunque, grazie.